ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video mi trovo in compagnia di ulisse benvenuti in questo nuovo video ci troviamo in un pacchetto nuovo per lo meno il nuovo tra molte virgolette per crescita un po di tempo fa però noi metriamo fuori solo adesso perché sembra veramente veramente figo ma veramente veramente tanti veramente è stato che cos'è esatto perché noi non siamo altro che dei degli uomini che vivono dentro un'astronave o una stazione spaziale o quello che sia siamo rintanati qua dentro non possiamo uscire e dobbiamo rifornire la nostra stazione cioè dargli energia mantenerla attivare i macchinari necessari per varie cose eccetera ho un'idea cacciamo sol è in più respira con noi è vero buttiamolo di sotto volevo far notare questo buco enorme che servia qualcosa poi vorrei che servirà qualcosa in teoria si ci dobbiamo mettere qualcosa che la gente si dirà dovevi mettere qualcosa qui dentro lo di e blocco immagini dobbiamo dobbiamo costruirci la casa qui dentro l'enterprise minimo allora ad essenzialmente comunque funziona come l'agrarian ovvero questo book quindi all'hqm che sarebbe l'art quest in mode e adesso dobbiamo prepararci un party perché lo faccio il party dove ci abbiamo chiamato dove vai veniamo lì se lì se lì se perché c'è uno zaino con fungo di super mario dentro il pavimento no dove a che c'è uno zaino con fungo di super mario dice che luccata e non posso aprire che c'è qualcuno che guarda perché 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 sono allevato su cosa è questo aspetta sono una pillo non ha più lo zainetto sul aspetta la città del questing mo allora fammi un attimo invitare thunder kg e ti ora mostrate a scrivere thunder kg ti fai age ti sono morto zero volte sono attualmente non sono in parti e aspetta come si può vedere com'è il tuo nick thunder trattino basso c ag e trattino basso a disposto ecco sì sì t'ho invitato ok ma arrivato partino no part in vice aspetta andiamo solo più facili solo shivan per un chat come si vede dice error the user.match a player in this server ma che sei scemo eccolo soul shivan ah con la x maiuscola vai soul no ah se c'è la x grande soul come è il tuo nick con la 2s maiuscola e le 2s maiuscola si vai invitato vai qua qua e se vuole da me se scrivete i numeri il mio nicchiano no no ma infatti non sapevo questa cosa delle maiuscole ma in teatro vai 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 come si vede scatta agisci dove ho fatto invitato parti è arrivato festa estrema dove è parti non lo vedo sulla destra sulla destra a parte in vita e come l'accetto cliccaci poi accetti ecco qua ragazzi siamo in due so vuoi accettare accetto ok siamo in tre perfetto e allora vediamo un po solo che cosa hai trovato cosa non facciamo un giro per un amico della stazione facciamo un po tutto quello che abbiamo tipo 4 cos'è qua cos'è ciao minime wild no come faccio a dirlo no che figata e mi sa che si bloccano ogni volta che qualcuno lo prende perché tipo 6 perché tipo quello della industria craft che è personale ah ecco ok perché riesco però c'è qualcosa dentro perché è un golden lasso che facciamo lo buttiamo per terra sicuro sicuro che no questo è uno streaming uno streamer ma vai via potremmo da chi come uno streamer spammone va vai via abbiamo ridmi abbiamo ridmi vediamo cosa c'è scritto benvenuto nel material energy 3 questo è la prima bella di spaziale avventura cintere vabbè ok grazie ok bella ok il ritmi ci parla delle cose la fammelo legge va capito si va bene ci sembra niente niente bene allora scusa se vogliamo fare la cosa seria facciamo fare un giro facciamo un giro panoramico ragazzi metti pausa ok allora abbiamo pensato di fare un giro una stazione che ci facciamo vedere un paio di posti cini e gigantesca stazione vedete bellissima bella gran gigante allora si e te ne ci stanno anche altri piani non solo tutto questo dubbio è esatto c'era ma questa questa sarebbe la la zona più grande essenzialmente per il tipo l'aul ricevimenti la vera o testa riempio anzi a misurare le host sono belle allora questo è vabbè termine perché questo è qualcosa della termine di qualcosa che funziona non capisco il perché si è trovato in questo modo sono pulverizzati e pulverizzati che viene polverizzato ancora e ho fatto capito perché però forse la finta tripla polverizzazione non so perché c'è finta dice della finta dentro la prendiamo non a prendere per lasciare lasciare lì non so magari c'è un magari c'è un motivo sì sì c'è un motivo perché con la cliente l'ho presa io con la prima scusa perché me la segna ancora avrei pagato no guarda me mi dice che c'è 29 la segna a me a me non mi segna nulla ho pagato io non ho pagato ok no no non mi segna proprio con la moto ma qui abbiamo un paio di cosette prende tutta roba ho 70 acqua branch o una regione mi è scusate permetti scusate una vole anch'io l'acqua per una cosa a testa prenderò la scena prima che muoio come un babbo ok poi qui abbiamo una strong box di libri è il tuberos flux capacità lo lasciamo lasciamo qua ha guardato un una strong box grande sarà piena è un po un po un po con l'energia giusto lasciamo qui dato prima o questo mettiamo nella parte iniziale lasciamo prima ce la teniamo da parte quella servirà è un po' per ora ok e dove spezziamo cos'è di fare però vogliono liberare e di un po cosa c'è di qua c'è un'altra cesta c'è qualcosa sia ho visto tipo della chimica mi sa non vorrei sbagliarmi ora un po' si ma insieme oh figo la mazzamina branch e una batteria con un po' di energia dentro tanto per poter dire di questa cosa non capisco nulla vero questo per farci contenti sembra contentino va bene con questo possiamo farci un sacco di cose ricordiamoci perché lo scopriete poi me lo spieghi e poi c'è questa luce si c'è la crostone liquida usi come facciamo energia spazio al conto e non ne ho idea scaricato quasi scattato line finita l'energia quasi da prima con questo bottone no non prendere esplode tutto non lo voglio sapere a no mi sa che morti a mi sa che questo serve tipo nel caso in cui vorremmo creare qualcosa nel lo special esatto qualcosa del genere mi sa che ti possa per far funzionare tutto quindi ok e in teoria adesso di molto di sotto che si scende da qui bello ma tutti entro insieme ok qui siamo bloccati non c'è nulla perché esattamente bloccato penso fare qualche missione perché non è un blocco di non è un blocco normale un blocco delle missioni dobbiamo fare qualche missione ce lo sblocca tipo un piano segreto quindi praticamente doveva farci qualche missione qualcosa anche qua l'uomo guarda quanti ne sono i miei guardi spesso non ho visto tutto spento entro questo poi ancora pieno di 18 18 16 domandato con l'altro ma sia su l'izio che si è ancora c'era da parte soli si è accorto e c'è un altro ancora uso a noi abbiamo un caffè a un somma d'anaglio non è una radio e non il caffè a metà che lo fanno c'è una leva ma che sarebbe già che era tipo un caffè probabilmente che pazzare va fai qualcosa qua c'è sacco di roma che non ho ben capito acqua bisogna mettere i trofei dove sono soldi ci sono non sono sordo i trofei metivano ci abbiamo il silver fish si mette lo scimato per il rumore inquietante levano levano ora questo è questo coso no che bello non è bellissimo come nascondono loro però sono interessanti a me dico e shan ingot shan ingot che è il trofeo shan ingot eh no troppo cos'è questo aspetta qui ci sono tutti i modi aspetta 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 che figata e sopra ci sono gli oggetti le lane presumo sono sopra ok di qua che cosa c'è scusatemi non lo so c'è tipo di materiali si si è c'è bronzo, argento, platino, zinco, electrum, enderium ah mi sa che oltre al questing mod c'è anche tipo sta zona di andare in piedi tipo la zona trofei sono tutti minerali questi guarda quanti e come faccio mettere il colpo qui sopra scusa il blocco da qua è blocco penso che è esatto il blocco cos'è il calentino? cos'è il reggino? guarda cosa c'è qui lo riconosci in questa forma guarda un po' io l'ho riconosciuta subito tu che dici? cos'è secondo te questa? la stava periodica nooo eh sì bellissimo questo ve lo faccio trovare abbiamo anche la tavola periodica questo cesto ve lo faccio trovare qui sotto abbiamo qualcosa aspetta qui abbiamo una ma rene vabbè ok ripeterò un po' di chimica ragazzi cos'è? è vuota bella perché c'è un gruppo di differenza? c'è questo posto? dove siamo? che strana mappa vabbè torniamo su torniamo su metallurgica che hai trovato? ah no è metallurgica è tutta questa però non so bene a cosa serve presumo che tipo sbloccheremo qualcosa probabilmente non no non vorrei che fosse collegato probabilmente è tipo una cosa standard se a caso sai cos'è? sai cos'è? ok poi ci dovrebbe essere più velocemente ci dovrebbe essere un altro piano ancora più sotto sai e comunque c'è un altro 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 dove? no lascia poi dove 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 no no c'è dove dove ah qua ah no proprio un'immaginazione questi questi tizia qua bello che c'è? uh la Mushroom eh che è? Brunt Quartz perchè non riesco a vedere niente io eh no perchè la perta lui Brunt Quartz eh sai mi sa che è uno dei blocchi uno dei blocchi da mettere il quarzo? ah si? e intanto cerco Mushroom 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 è vero no ciao prendi qua no sol sono no lì no di sol non volevo far crescere le cose è cibo c'è funghi cibo eh io il quarto non so da metro sinceramente io andrei a vedere il piano sotto sinceramente io andrei a vedere sotto va questi ritengo io per me vedremo un po' qui abbiamo degli impianti macchinari della M tanti cavetti cioè un solar generator addirittura oh questo mi servirà ok questo servirà dopo lascia tutto quanto qua dentro no 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 portali no 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 tieni l'inventare andiamo giù il piano sotto che c'è scritto building area presumo che vogliamo costruire qua dentro ah per fare i macchinari cos'è quello il body eh no c'è chi si segue ah la c'è chi si segue si è vero ok vediamo giù si può andare vi posso mostrare una cosa io si so vai si mostraci è muro a me sembrava che si cadiva giù è pazzo ragazzi basta torniamo sopra no lo vedevo col buio non è colpa mia torniamo alla lobby vabbè andiamo su ok che figata quando salite è bellissimo vedi i vostri nomi che scattano aspetta lì guarda guardami basta basta pieni oh guarda ciao fermo non ci sono altri lo spacco lo spacco lo spacco dici che crasha la stazione spaziale non penso spero che di grazia non funziona esperienza perché sarebbe stata una cosa bruttissima immagino la vita io per questa presentazione chiuderei abbiamo fatto vedere un po' tutto esatto poi se bisogna diremo diteci che ne pensate soprattutto di questo modo perché di questo mondo strano il nuovo che tendiamo a scoprire beh spero che se non muore spero che se non muore è una ghiacchiera però non per dire io già ho metà dei corsiotti ok vabbè se è strano perfetto ma perché solo tu perdi i corsiotti o no? che se so ma comunque non credo si hard core eh non vorrei dire una cavolata no non è hardcore nel senso che ah boi store abbiamo sbloccato una cosa abbiamo sbloccato però facciamo dopo ah ha già sbloccato qualcosa? eh la base tour poi lo faremo io saluterei qui giusto? il prossimo video fateci sapere con un like se vi piace la serie se volete che solo vada via dalla serie no se volete soprattutto se farci una serie più che altro esatto perché ovviamente ancora dobbiamo capirlo bene questo modback e studiarlo adesso vediamo un po' com'è la situazione fateci sapere che ne pensate nei commenti iscrivete non so fateci sapere bene hai definito V2? hai definito V2? si sto vedendo solo sto vedendo ancora tan 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 ok è super Mario ok ok ragazzi fateci sapere cosa ne pensate dai qui sotto se volete altri video e se volete invece sono fuori hashtag solo addio basta tu hai detto hashtag solo non è colpa mia quindi ciao ciao ragazzi ciao a tutti ciao ciao ehi tu si dico proprio te sei nuovo da queste parti si? allora mi presento io sono Lisse e questo è il mio canale qui potete trovare video di Minecraft ma non solo il canale è anche pieno di video di gameplay quindi che aspetti io non so di farlo più da vicino persone o animali o bambini non sono stati sfruttati per la realizzazione di questo video